e inizia il match tra Barano e Real Forio Braccio, vince il rimpallo e il Forio allora Mazzella, Sorrentino sulla destra palla per Migliaccio il cross di Mazzella De Luise un rimpallo fortunoso per Massimo De Luise per l'infortunio di scritturale intanto giovane il cross Angelo Arcamone leva la palla a Matarese bene contro Iacono arriva Giovene affianco a lui serve Giovene che ci mette tantissimo per calciare il cross di Rosi tessitore, manca la sfera Lubrano rischia su Lamarra il numero 3 che va sulla destra da Giovene arriva il richiello sulla destra Giovene, ancora palla per Angelo Arcamone in area di rigore Arcamone ancora, basta qualche centimetro più avanti o più spostato di laterale intanto Giovene, la traversa poi Matarese, Lamarra Neri per Conte il cross, ottimo e non ci arriva né Arcamone né Enrichiello intanto il Pianù intanto prima occasione clamorosa per il Forio e poi c'è il gol del 2 a 0 inizia il secondo tempo tra Barano e Real Forio Iacono il tiro di Iacono palla di pochissimo a lato Angelo Arcamone non controlla bene la palla finisce in fallo laterale rimessa laterale per il Barano il colpo di testa di Tessitore la palla di Salimatarese in rovesciata accorcia le distanze allora Manzi palla per Abbandonato Manzi in sovrapposizione la giura Arcamone palla per Tessitore Tessitore Lamarra Arcamone per Abbandonato che non calcia con il destro poi perde un sacco di tempo allora Mainolfi prova a servire Conte era buona l'idea ancora Mainolfi Conte è in fuorigioco ma Giovene no allora il cross non ci arriva Giovene bene per Giovene Giovene palla in qualche modo annunziata poi Mainolfi Giovene Conte palla per Angelo Arcamone potrebbe anche calciare da lì lo fa Arcamone 2-2 si può riprendere il gioco ancora Giaiese ancora braccio aperto il cross la palla resta lì forse c'era un fallo di mano poi l'arbitro addirittura fisca prima del del tempo finisce qui il match termina sul risultato di 2-2 si può riprendere la palla l'arbitro addirittura l'arbitro addirittura